Ciao a tutti, sono il percussionista e batterista Stefano Rossini, docente e direttore della scuola di percussioni Stefano Rossini in Roma. La nostra è una scuola attiva dal 1991, ci siamo rivolti specializzandoci nella ricchezza dei principali ritmi di matrice afro-brasiliana, mantenendo però sempre la musica come fonte inesauribile al centro del nostro lavoro. Abbiamo ottenuto in considerazione diversi e vari tipi di strumenti a percussione, considerandoli come una parte di un'orchestra. Abbiamo previsto una fase di riscaldamento per poter utilizzare una tecnica a mano libera e una tecnica con bacchette, praticando inizialmente delle combinazioni ritmiche e sequenziali su uno strumento pilota, che generalmente è il Kaon, che è uno strumento di antica origine peruviana, ma molto usato anche nella percussione cosiddetta moderna e popolare. Abbiamo anche cercato di dare spazio e stimolare la creatività dei partecipanti, unita alle regole della sequenza e della comprensione dei ritmi e anche allo sviluppo della memoria musicale. Il nostro obiettivo, unito al divertimento, è stato sempre quello di sviluppare un'attitudine musicale verso gli strumenti di percussione. Ci rivolgiamo per questo motivo a tutti i principianti, avanzati e professionisti, che possono coesistere facendo un lavoro sul posto, in una dimensione settimanale e soprattutto coinvolgente e familiare. Bene, vi aspettiamo quindi per condividere, creare e apprendere insieme. Meglio di così, non si può. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.